servizio Grot apertura carica di Gacina servizio Gacina e poi il rovescio diagonale servizio Grot lungo sul rovescio di Gacina bellissimo questo ancora Gacina al servizio scambio che si sviluppa ancora Gacina al servizio è splendido questo contro top Grot al servizio e stecca in dritto rovescio di Grot ancora Gacina al servizio da per terra zio Grot mi sbaglio è qui serie D dritti servizio col dritto apertura a 100 lungo sul rovescio di Grot è qui un colpo di fortuna da una mano al croato coglie lo servizio Gacina scambio stupendo servizio Grot e sbaglia e sbaglia il dritto il danese si chiude secondo set con questo errore che fa esultare Gacina e tutta la sua compagine servizio Grot apertura Gacina servizio col dritto a cattura con rovescio ancora tre punti di margine per Gacina Grot servizio col dritto bellissimo questo scambio serie di contro top la spunta ancora Gacina a disposizione apertura di Gacina e sbaglia e qui però servizio ancora Grot apertura a carica del danese e poi arriva primo servizio col dritto rovescio di Grot e finisce qui con questa terza palla pesante di Andrea Gacina dunque il Carrara si porta in vantaggio di 2 a 0 di 2 a 0 di 2 a 0